Io penso che abbiamo fatto una grandissima partita a Vicenza, che la partita ce l'ha fatto perdere l'arbitro, perché a noi al primo tempo non ci hanno dato un rigore nettissimo, invece a loro hanno dato un rigore molto dubbio e penso che l'arbitro si è fatto molto condizionare dallo stadio e dal pubblico. Abbiamo la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutte le squadre. Prima o poi il gol arriverà, dobbiamo essere un pochetto più cattivi là davanti, ma tutti quanti, non solo gli attaccanti. Abbiamo fatto una grandissima partita a Vicenza. Abbiamo fatto bene anche il primo, ma comunque loro sono scesi pure un pochetto fisicamente e noi stavamo un pochetto meglio al secondo tempo rispetto a loro. Loro la partita la potevano vingere solo così, sul rigor, su un calcio piazzato. Dopo due mesi riusciamo a giocare davanti ai nostri tifosi e penso che domenica ci daranno sicuramente una spinta in più per i tre punti. Noi dobbiamo fare bene sia in casa che fuori, senza darci limiti. Dobbiamo fare partita dopo partita, sempre per i tre punti.